Ciao a tutti ragazzi, sono Luigi, Inter 87, post partita di Inter, Genoa 5-0, 5-0, 7 vittorie consecutive Inter che fa il turnover, Spalletti che fa un ampio turnover, gioca a Dalbert a posto di Asamoah, gioca ad Ambrosio a posto di Versalico, Gioao Mario confermato nel ruolo di Nainggolan che poi entrerà quasi a fine partita per avere un pochettino di minuti sulle gambe dopo l'infortunio, ma non cambia niente, non cambia risultato, l'Inter domina, l'Inter vince, fa 5 gol, contentissimo per Gagliardini che oggi gioca al posto di Vesino, dimostra di essere un giocatore all'altezza dell'Inter, Sono contento per la doppietta perché ultimamente ha avuto poco spazio, perché Vesino e Brozovic hanno dimostrato di essere una bellissima coppia lì a centrocampo davanti la difesa, però Gagliardini è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, oggi ce l'ha dimostrato, quindi sono contentissimo per la sua doppietta, ma che gol ha fatto Gioao Mario? Ne abbiamo parlato benissimo nella prima partita da titolare, oggi confermo il rispetto e la stima che ho adesso per lui, sta dimostrando di essere un vero giocatore all'altezza dell'Inter, si vede che quando fu lui non si sentiva al centro del progetto, non si sentiva valorizzato, diciamo che era un pochettino anche una testa un po' così, una testa calda, quindi non ha preso sul serio la situazione, ha capito che si deve impegnare, lo sta facendo, stanno venendo i risultati ed è venuto fuori il gol più bello della giornata, cioè assist di chietà, lui sposta il pallone e tira all'angolino più basso, ma che gol l'ha trovato? Bellissimo, sono contento per il gol di Politano perché anche lui se lo meritava, uno che ha dimostrato di essere da Inter, che è un titolarissimo in campionato e in Champions, e poi alla fine la conferma del Ninja che con lui le cose sono diverse, è entrato e ha siglato il 5 a 0, partita senza storia, partita praticamente a senso unico, Andanovic completamente inesistente, mettiamo sette vittorie consecutive, difendiamo il nostro secondo posto a pari punti col Napoli, ieri il Napoli ha vinto 5 a 1, noi 5 a 0, quindi teniamo il secondo posto e a differenza a reti siamo noi secondi, aspettiamo cosa fanno i Rubentini, gli Umerdini e poi vediamo, intanto noi siamo carichi, pronti e gasati per aspettare il Barcellona in casa, io mi aspetto un atteggiamento diverso e sono sicuro che anche se perderemo, anche se c'è la possibilità di perdere, quest'Inter scenderà contro il Barcellona con un atteggiamento diverso, perché sette vittorie consecutive in campionato, più le due rimonte che ci sono state prima del Barcellona ti dimostrano che il carattere c'è, la grinta c'è e a livello tecnico la qualità dei singoli c'è tutta, quindi ragazzi praticamente su Inter Genoa non c'è nulla da dire, a parte che l'Inter ha stradominato, quindi non c'è granché da analizzare, a parte il fatto che è un bel gruppo unito dove si vede che qualsiasi elemento sa rimpiazzare l'altro e tutti si sentono valorizzati e importanti, quindi sono contento di questo, a parte questo, ripeto, per l'ennesima volta non c'è nulla da dire, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di Inter Genoa, condividete il video e iscrivetevi al canale LuigiInter87 per rimanere aggiornati sui prossimi video e sui prossimi post partita, noi ci vediamo e sempre, forza, Inter!